Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'anticiclone africano ha ormai del tutto abbandonato i settori più a nord dell'Italia, ma al centro-sud la situazione per la giornata odierna rimarrà pressoché invariata. Il caldo e l'afa non molleranno alla presa e la colonina di mercurio farà registrare ancora valori molto alti su alcune località. Da venerdì la vera svolta con l'arrivo dei primi venti più freschi dal nord Europa, accompagnati da un lento calo delle temperature. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 13 luglio. Al mattino cieli soleggiati ovunque con afa insistente soprattutto lungo le aree costiere. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità maggiormente concentrata sul potentino con possibilità di deboli fenomeni o improvvisi acquazioni. Altrove cieli che rimarranno sereni fino a sera. Temperature in calo di qualche grado nei valori massi con punte di 34-36 gradi su Materano, Tarantino e Salento Ionico. Ventilazioni in intensificazione durante la giornata, dei quadranti settentrionali con maggiori rinforzi sulle coste adriatiche, Puglia centro-medionale e Salento, altrove vento più debole. E per quanto riguarda i mari risulteranno poco mosso l'Adriatico e il canale d'Otranto, calmo allo Ionio il terreno. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Michele Vitulano che ci invia questo splendido scatto. Nella foto è visibile un cosiddetto fulmine positivo discendente, immortalato durante un temporale a Manfredonia il 2 luglio. Si tratta di uno dei fulmini più rari, ma anche dei più potenti e pericolosi, perché possono cadere al suolo anche a centinaia di metri di distanza dal cumulo Nembo. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.